in arrivo il traghetto sta salpando il traghetto good morning milano buongiorno 7 e 07 di oggi mercoledì 6 dicembre buongiorno domani facciamo 3-7 se no domani 3 gambe delle donne domani è 7 ma è 8 domani se entriamo le 7-7 domani ci facciamo 3-7 domani faremo tutto così buongiorno iniziamo molto bene con le mie fisi tu sei distrutto stamattina cosa c'è? no sono distrutto c'ho le belle girate come mai cosa è successo? ho riscoperto dopo praticamente 9 mesi di essere incinta no quanto è fastidioso avere una patina di ghiaccio grossa così sulla macchina di prima mattina perché oggi a guardare i nostri termometri siamo sotto zero credo sia la prima mattina che ufficialmente siamo sotto zero almeno quando usciamo noi di casa magari mezz'ora prima anche l'altro ieri sotto zero però oggi c'era meno uno mentre facevo la lunga strada che mi porta da casa allo studio e c'è lì con il raschiettino come no io però sono stato attento al ghiaccio per terra tu sai mai che magari c'è del ghiaccio? no invece no non c'era niente quindi tutto raschierà metti i fogli di giornale no le patate le fatte di patate ah le fatte di patate l'abbiamo visto sì 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 vabbè mettiamo invece l'Odì a fare spenti l'Odì a fare spenti 7 e 11 minuti iniziamo questa nuova puntata di Good Morning Milano sempre qui su Crystal Radio ben ritrovati e ben ritrovate a tutti eccoci e iniziamo subito con l'almanaco ah quindi così ma oggi va subito così l'almanaco benissimo sì 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 non vuoi parlare un po' dei fatti nostri no vabbè ieri è stato ancora in fiera assolutamente sì cosa hai mangiato? ieri ho mangiato un arancino uno spiedino l'arancino quello con il riso venere? no scusa con il rinno di seppia? no 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 arancino normalissimo fritto al momento uno spiedino di mozzarella di bufala spiedino di mozzarella di bufala? molto molto buono e un panino con il patanigra ah quindi sei andato hai sconfinato? ho sconfinato cioè sei uscito dall'Italia sei andato anche sono partito da volevo dire no posso ma lo dico dillo 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 lo dico volevo assaggiare il coccodrillo eh il coccodrillo come fa miam 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 scusate i miei amici animalisti però c'è e lo volevo assaggiare sì non sto facendo del male è già morto non l'hai però no no perché costava troppo ah sì costava oggettivamente troppo ma è un panino con il coccodrillo un piatto sono paninetti piccolissimi con straccetti di coccodrillo dentro sì sì e costano quello piccolo che è proprio mini è proprio un bar così 9 euro 9 euro per un mignon sì che poi alla fine è un coccodrillo però non è che lo trovi tu non è che vai qua nel naviglio e peschi un coccodrillo però siccome non sono in Africa o non so dove sia tipico ti dico la verità lo so in Florida anche l'Australia in Florida in Africa c'è un po' non c'è mangiarlo in fiera era un po' riduttivo ci pensi che attivamente è come mangiare una nutria qui da noi cioè non è molto distante e poi chi l'ha assaggiato mi ha detto che alla fine sa di pollo tutta la casa qualsiasi cosa mangi sa di pollo se hai mangiato i cavalletti sono di pollo si sa di pollo tutto sa di pollo se mangiamo affatto sta roba e invece povero pollo povero gabbiano no povero pollo povero pollo no quantità attiva di gente ti dico come il primo giorno quindi nemmeno tantissima e sei andato a che ora a che ora a che ora sono andato dalle 3 dalle 15 a sera vabbè però vabbè ieri così martedì ieri era uno dei tre giorni secondo me oggi è l'ultimo giorno buono esatto lunedì martedì domani un disastro vedremo vediamo perché io ti ripeto il primo giorno non è cambiato quando è che ci torni? no basta quest'anno basta basta quest'anno basta sono andato con gli amici sono andato con la ragazza basta con l'amorosa con l'amorosa con l'amorosa sono andato cosa hai mangiato tutto quello che ho preso io ho diviso metà cioè non l'ho preso intero però non l'ho detto prima per far scaturire la gag i poveri perché siamo poveretti anzi sei stirato come dicono i giovani di oggi hai visto che ho imparato strastirato strastirato ok quest'oggi invece pianeta che ho avuto il problema della mattinata è stato il ghiaccio la berlina ghiacciata sulla tua macchina chissà quanti in questo momento quindi anzi se ci state ascoltando uscite quel due minuti prima di casa non uscite col secchio d'acqua bollente che rischiate danni perché so che non è il massimo da fare infatti si crepino i vetri cose del genere con pazienza con pazienza un raschiettino magari da dentro la macchina accendete un po' l'aria calda così scalda un po' il vetro oppure non so massaggiate la macchina con dei guanti di lana merino ho acceso sono riuscito e mentre spannava dentro ero fuori eri fuori infatti così si fa comunque se invece siete già nel traffico o state per a pipunquarvi a pipunquarvi vabbè comunque luce verde ci dice adesso in tempo reale la situazione del traffico sulla nostra città e nell'internet di Milano per favore di non farmi esprimere grazie scherzi a parte intanto ringraziamo perché al 331 7853555 arriva il primo buongiorno puntualissimo di Alberto buongiorno amici del mattino i mali di stagione incombono ieri Alberto se non è uno sbaglio ci aveva detto che aveva mal di gola un po' di tosse oggi mi sa che è peggiorato povero ci spiace Alberto possiamo mandarti una medicina non so qualcosa magari magari la prossima canzone la prossima canzone d'Alberto farà la medicina è arrivato il momento in realtà è sempre il momento è sempre il momento buono per l'influenza ad ottobre quando c'è stato quel minimo minimo cambio di stagione tu ti ha letto adesso tu ti ha letto comunque il mio computer mi dice che ci sono 20 gradi è soleggiato lo butto lo butto lo butto lo butto lo lancio fuori dalla finestra mentre gli altri in studio segnano meno no no infatti col sole perché oggi ci dovrebbe essere anche il sole infatti belle quelle giornate sono belle fredde ma col sole bellissime bellissime preferisci il caldo o il freddo no preferisco il freddo ma non così teso ah non così teso primo giorno che andiamo sotto zero da 20 anni ormai ho capito posso dire intro la fine della trasmissione fare una ricerca su quanti giorni siamo andati adesso mi incacchio qui con CiaciPT Bard Google faccio un po' di casino è l'influenza l'intelligenza artificiale usata male 6 dicembre buon compleanno a Irene Grandi e Antonella Clerici grandi tutte e due mi piacciono tutte e due tutte mi piacciono tanto e a Paolo Meneguzzi te lo ricordi? Svizzero no? Meneguzzi è Svizzero adesso mi pare che nato a Mendrisio sì 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 le cose importanti le so un saluto a Barbara Venneri allora di radio Tele Ticino che ogni tanto ci ascolta poi i nostri colleghi di Tele Ticino 64 anni fa Radio 3i scuso ho sbagliato la radio Radio 3i ho sbagliato la radio non è Radio Ticino è Radio 3i ho sbagliato la radio è un altro Radio Ticino scusate un saluto anche agli amici di Radio Ticino a questo punto salutiamoli poi 64 anni fa e poi ci colleghiamo a qualcosa che magari diremo dopo la prossima canzone che fremo da sentire e che farà stare bene anche Alberto con i suoi mananni di stagione 64 anni fa è stato inaugurato lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ossia il vecchio San Paolo quanti anni fa? 64 anni fa il San Paolo ho inaugurato poi adesso adesso diciamo Maradona ci colleghiamo a questo dopo la prossima canzone perché cosa succede a Milano? innanzitutto c'è un campionato di padel un torneo di padel in corso tra l'altro hanno installato delle luci viola ultraviolette fuori che sembra io adesso sembra Gotham City no sembra un po' un po' un pepe nero un po' ah sembra un po' sembra un po' un culo di quei locali lì sembra un po' un night sembra un po' un night no scherzi a parte è in corso un torneo di padel e in più tutto questo ieri a Palazzo Marino c'è stata la Coppa Davis Davis fisica l'insalatiera e si sta cercando di portare il grande tennis a Milano diciamo solo questo comunque ho detto vedere Panatta ho visto delle cose di Panatta giocare vedere quella roba lì capisci davvero che roba che era il Trentino a volta non voglio togliere niente a quelli di adesso ma è proprio spettacolare adesso va dando il documentario su Netflix una squadra Beyoncé Break Your Soul ed eccoci tornati dopo la piccola pausa che serve anche per farvi conoscere 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 coloro che supportano Crystal Radio tutte le mattine anche un po' anche altri programmi questi sono i promo degli altri programmi che vanno insomma bene ritornati qui con noi a Good Morning Milano Maseri che ci dicono in giornale di oggi? stavo dicendo andiamo a recuperare un po' quello che appunto stavamo dicendo prima sullo sport a un buon Martina Riva Assessora al Comune di Milano per lo sport scrive ieri è ufficialmente iniziato il Milano Premier Paddle che durerà fino a domenica 10 dicembre sarà uno spettacolo come l'anno scorso con qualche elemento di novità che scopriremo giorno dopo giorno ci vediamo all'Allianz e poi bellissimo passaggio in cui dice ricordatevi che M1 e M5 portano due passi dall'Allianz Cloud potete lasciare a casa la macchina e scendere all'8 sì anche tutti i 8 anche sì bello tutto si può dire sull'Allianz Cloud tranne che sulla posizione la posizione è comodissima poi sulle luci stile Cocorico che hanno messo no ma no se ne frega di quello scherzi a parla no no bella bella è un altro palazzetto cioè un altro luogo in cui si aggregano persone sempre nel ah sì sempre tutto nel municipio nel quartiere che è già a difficoltà a tenere qualche anno quando riapre anche il Lido che dovrebbe diventare ancora anche lui punto di ritrovo e tutto non è grandissimo no però ma sono contenti anzi che venga usato perché sembrava che dovessi rimanere un po' la catena nel deserto invece no l'ho utilizzato abbastanza e di sovente ci hanno fatto X-Factory tutti i provini di X-Factory quest'estate sono stati fatti lì poi sempre mattina arriva appunto come dicevo prima la Coppa Davids è arrivata a Palazzo Marino e da qui sarà esposta al pubblico fino al 13 dicembre fino al 13 dicembre di fianco alla sala di Palazzo Marino che ospita la tradizionale mostra di Natale e sostanzialmente appunto resterà fino al 13 domani cambiano gli orari per poterla vedere essendo Sant'Ambrogio e da occasione per infatti da domani dalle 9 e 30 alle 12 e 30 mentre gli altri giorni 9 e 30 19 e 30 domani sono la mattina esatto e chiaramente poi la Coppa Davids scenderà andrà a Roma e farà varie tappe in giro per l'Italia e chiaramente questa è occasione per ribadire la volontà dell'amministratore di portare il grande tennis a Milano perché oggettivamente non ricordo grandi rassegne l'anno scorso mi ricordo cosa tipo la Coppa Davids dei Junior una cosa del genere che infatti era stata detta è un po' propedeutica cercare di portare il grande tennis a Milano anche il fatto comunque di portare il padel che non è il tennis sappiamo anzi che non è che si amano tantissimo le due fazioni a volte però porta un po' di quel mondo lì e ci sta nel senso Milano è importante anche dal punto di vista del tennis sindaco se poi riuscissimo a riportare anche l'arrivo del Giro d'Italia non sarebbe male ogni tanto magari così lo dico così lo dico basta io non non ho memoria del non so no sì sì però non ho ricordo perché non mi perché non mi hai mai fregato niente ah per quello ok da quant'è che non c'è no no nel 2020 poi alla fine c'è stato ok l'anno del covid che l'hanno fatto mi ricordo che c'è stato qualcosa che è una tappa speciale non so se era il finale comunque no il finale era la crono quindi sì comunque poi continuando con la rassegna stampa Lucia Lopalo presidente di Arpa sapete coinvolta per la questione tecnicamente sfiduciata dal consiglio comunale dal consiglio regionale tecnicamente salvata da Fontana perché la presidente di Arpa resta al suo posto la mozione di sfiducia non è stata accolta dalla giunta regionale e dal presidente infatti perché non è stata tecnicamente non hanno fatto la proposta è tutto c'erano anche i numeri da quanto ho capito però niente perché la dichiarazione controverso appunto della presidente di Arpa ricordiamo sul cambiamento climatico eccetera non era stata presa molto bene no 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 e anche qui come sempre facciamo tutto per fare tutti contenti perché insomma ha un consiglio regionale che ormai è più il piede di guerra verso il proprio presidente e sempre per quanto riguarda il consiglio regionale il consigliere cacciatore denunciato dai forestali si dimetta titola Milano Today nel mirino infatti Carlo Bravo consigliere di Fratelli d'Italia ex presidente dei cacciatori Lombardi vice presidente della commissione agricoltura a novembre i carabinieri forestali lo hanno denunciato per i richiami vivi presunti irregolari la richiesta di dimissioni dal vicepresidente arriva da patto civico in consiglio regionale però queste cosucce da da consiglio regionale comunale non è che si litighi solamente in consiglio regionale l'abbiamo visto recentemente sostanzialmente però sono cosucce cose ridicole direbbe De Luca recentemente ha detto cose ridicole ed è stato un po' preso così però oggettivamente quelli sono i palazzini in cui dovrebbero venire fuori le nostre le nostre regole sì ma adesso a lavorare su cose che servono a tutta l'accedenza abbiamo sempre in primis il trasporto pubblico sappiamo quanto ce n'è bisogno andiamo avanti con la musica andiamo avanti con la musica Negramaro con Contatto Negramaro Contatto anche qui finisce lenta sono due giorni che Negramaro cambiano i finali delle canzoni aspettiamo sempre l'urlo finale invece no ci parlano perché urla per tutto perché la mattina se tu mandi la stessa canzone alla sera lui te la urla dietro invece c'è la versione morning e la versione night è come avere lo sfondo quello che si adatta dell'iPhone sì sì uguale dark mode light mode uguale comunque Comune di Milano post di ieri pomeriggio passi avanti per il prolungamento dell'M4 fino a Segrate scusate scusi il sindaco di Bucinasco il progetto di fattibilità approvato dal Comune di Milano prevede la realizzazione di altre due fermate dall'Inate aeroporto fino a Segrate con una tappa intermedia a Idroscalo San Felice costo stimato come ci diceva appunto il sindaco di Bucinasco Rino Pruiti 470 milioni di euro 470 in una giornata siamo già saliti altri 90 milioni tipo 380 coperti in gran parte da un finanziamento di 420 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pochi giorni fa inoltre due giorni fa piccolo presidio cioè piccolo presidio della Lega in particolare la consigliera Silvia Sardone Camilla Carozzi che è consigliera del Municipio 7 eccetera in piazza in piazzale Selinunte per chiedere più sicurezza e contrasto al degrado si legge mentre il Comune di Milano si preoccupa solo di spendere 4 milioni di euro in piazze tattiche panchine tavoli da ping pong i cittadini chiedono di essere ascoltati e che il Comune si occupi di erali problemi del quartiere come sicurezza e discariche abusive oggi intanto colgo l'occasione per dire che tra pochi ai nostri microfoni ci saranno Daniele Mincini e Grazie Ingrao segretario segretario aggiunto del sindacato unitario lavoratori della polizia locale sindacato che domani avrebbe aderito ha proclamato e avrebbe aderito a uno sciopero che invece è stato non revocato è stato posticipato si legge si parla di differimento ad altra data dell'agitazione in termini giusti e quindi ci faremo spiegare per bene perché immagino che la motivazione sia il fatto che domani la polizia locale serve nelle strade milanese essendo una giornata di festa con moltissime iniziative ma poi parleremo per bene anche dei vigili di quartiere parleremo per bene appunto dello scontro con l'amministrazione sui turni di notte sulle volanti l'amministrazione le vuole triplicare e c'è un ultimatum sostanzialmente per il primo mese di gennaio in cui si deve trovare una si deve fare una mediazione e in ogni caso il 13 febbraio verranno accolte queste nuove proposte per implementare per triplicare il numero di volanti nella nostra città nei turni serali bene parliamo meglio appunto dei nostri ospiti che arriveranno fra poco e cerchiamo di capire anche un po' certe istanze appunto che portano avanti e anche delle richieste o delle cose che magari per noi cittadini sono scontate ma poi sono complicate da capire perché c'è tutto un sistema molto molto complesso dietro alla polizia locale dietro appunto della pubblica sicurezza nella nostra città e soprattutto appunto parleremo anche di sicurezza perché è il tema che molti stanno portando avanti e insomma tra percepito realtà chi ci lavora chi ne proclama solo da influencer sui social andremo a capire meglio tutto il tema Alfa bellissimissima 748 minuti Crystal Radio Good Money Milano 33178535555 dopo 48 minuti di messa in onda abbiamo finalmente dato il nostro numero di WhatsApp no l'avevo già detto secondo me nemmeno ho letto non abbiamo dato il numero no no l'ho letto allora sai cosa dopo 48 minuti di trasmissione mi sono accorto che non ti ascolto questo Fabio io abbiamo iniziato l'11 settembre l'ho capito il 12 no no ma in realtà ti ascolto quasi sempre tranne nell'ultimo paio di blocchi perché ho fatto una ricerca su quando è passato l'ultimo giro d'Italia mentre io parlavo di sicurezza a Milano degli ospiti che avremo dopo eccetera cosa stavi cercando Fabio quando è passato l'ultimo giro d'Italia a Milano ed era il 2021 non il 2020 il 2021 tappa numero 21 ultima tappa da Senago a Milano con circuito cittadino la cosa però che mi hanno andato fuori è che ovviamente ormai uso Google poi passo a chat GPT chat GPT ho detto non lo so non mi avevo mai risposto non lo so veramente io sono aggiornato il 2020 so che è passato una roba del genere so che è passato spesso da Milano vai sullo sito del giro d'Italia guardati quando così mi ha risposto però sincero sincero no no sincero bravo lo preferisco a Bard invece la AI di Google che invece mi ha detto ah sì l'ultima volta è stata la ventunesima tappa la Senago Milano del giro d'Italia 2023 e io ho detto ma non mi ritorna questa cosa del 2023 no non mi ricordo che è passato da qui l'anno scorso infatti non è vero c'è una tappa esiste la tappa Senago Milano con il circuito cittadino e tutto ma era il 2021 benissimo grandi inchieste io voglio il giro d'Italia tutti gli anni che arrivi a Milano come era la tradizione ma l'abbiamo inventato noi cioè la gazzetta lo spot rcs c'è sta roba qua e poi andiamo secondo me ne vogliono un'altra città è il giro d'Italia ma deve arrivare a Milano e anzi io rivendico l'arrivo al vigorelli bisogna ritornare con l'arrivo al vigorelli sì ci gioca il football americano sì ci gioca il football americano non lo sapevo intanto oggi ragazzi cari amici cari amici radioascoltatori la rassegna stampa non è che sia poi così ricca stanno facendo il ponte i giornalisti già ma più che quello siamo al 6 abbiamo davanti un bel ponticello tutti gli articoli sono cosa fare nel ponte di Sant'Ambrogio allora io chiaramente non vi andrò a leggere mille volte le stesse cose e apre il negozietto di qua perché domani apre tutto ciò che ha a che fare con il Natale anche noi siamo aperti domani anche noi siamo aperti ricordiamo che domani facciamo il faremo lo speciale di Sant'Ambrogio qui dallo studio di Milano All News Maratona Ambrogio no Maratona Ambrogio la chiamiamo non saremo le uniche voci di Cristal Radio andremo avanti inizieremo alle 7 come tutti i giorni ma chiuderemo alle 13 chiuderemo alle 13 bravo ho detto bene e già alle 7 avremo qualcuno qui con noi in studio però non ve lo diciamo no una voce femminile una voce femminile suave e dolce la mattina vi farà stridere le orecchie no un saluto tra un saluto no no non posso dire chi sarà non posso dire chi sarà però tra tutte io una municipio 9 municipio 9 dentro Villa Litta ci sarà una pista da pattinaggio sul ghiaccio spettacoli musica animazione mercatini ed eventi dal 7 dicembre al 6 gennaio questo vorrei dire non perché è vicino a casa mia e perché sicuramente ci andrò ma perché Villa Litta secondo me è un parco che è veramente veramente bello e che deve essere tanto tanto valorizzato perché a cavallo tra la buvisasca e affo esatto c'è una biblioteca che è stupenda tra quelle comunali forse la più bella quindi vedetelo andatelo a vedere perché non è così tanto conosciuta però bellissimo arriva il momento anche oggi degli ospiti secondo blocco blocco degli ospiti oggi ai nostri microfoni abbiamo Daniele Vincini segretario e grazia in grau segretario aggiunto del sindacato unitario lavoratori della polizia locale buongiorno 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 agli ascoltatori buongiorno grazie benvenuti grazie perché insomma con voi si può fare un po' di chiarezza su quei temi che sui giornali troppo spesso vengono scritti un po' così diciamo giusto per raccontarli invece almeno così cerchiamo di capirci bene la domanda con cui dobbiamo iniziare ovviamente è sullo sciopero di domani cosa è successo Lorenzo ricordiamolo un attimo è successo che due giorni fa il neoprefetto Sgaraglia si è si è esposto e sostanzialmente si è deciso per il differimento ad altra data dell'agitazione che era appunto prevista per domani giusto? ci volete raccontare un po' cos'è successo? è successo che l'amministrazione con un atto unilaterale ha mandato avanti un'informativa adesso non entro nel tecnicismo sindacale se no teglio gli ascoltatori comunque in poche parole ci hanno detto che dal 13 febbraio l'accordo il nostro contratto decentrato non sarà più quello e verrà snaturato verrà cambiato quello è un contratto che è la storia della polizia locale il problema vero è di implementare le pattuglie di serale notturna loro vogliono aumentare l'età anagrafica per chi dovrà fare questi tipi di servizi noi eravamo disponibili a discutere con un altro modo un altro approccio per dare lo stesso risultato ovviamente come sempre con prepotenza e arroganza hanno imposto questa linea sindacale non è stata condivisa da nessuno delle sigle sindacali presente ai tavoli c'è stata un'assemblea dei lavoratori che hanno evidenziato che un corpo di polizia locale non può sempre essere preso a pesce in faccia c'è una dignità di una divisa e ci deve essere rispetto da parte dell'amministrazione giustamente voi appunto avete minacciato questo sciopero di Sant'Arboggio lo sapevate forse che finiva con un precettamento immagino non è la prima volta credo che siamo una delle poche categorie che il diritto dello sciopero è alquanto aleatorio come è che avviene perché siete una categoria di lavoratori speciali sicuramente con delle regole come è che avviene in questo caso quali sono le regole per cui voi ovviamente avete anche il diritto di sciopero però non è così semplice come per qualsiasi altra categoria ma guardi per indire uno sciopero per i servizi essenziali bisogna avere la congiunzione a strade ottimale nel senso che noi abbiamo più di alcune volte sbagliato anche indire uno sciopero perché c'è la rifazione dei compriti c'è tutta una normativa che voglio dire porta ad avere delle regole stringenti noi questa volta ce l'abbiamo fatta l'abbiamo indetto nel momento giusto è stato rigirato come un guanto tutta la procedura però sapevamo che in concomitanza del 7 molto probabilmente saremmo stati precettati o come è successo il prefetto avrebbe disposto il fatto di spostare questa data quindi dal differimento dello sciopero lo sapevamo già però rivendichiamo il fatto che una categoria ha anche il diritto visto che non siamo considerati forza di polizia per questa amministrazione siamo praticamente degli amministrativi con la divisa e da quello che ha detto l'assessore Granelli più simili agli assistenti sociali che dai poliziotti a questo punto fateci scioperare però è arrivato il provvedimento del prefetto noi ci atterremo ma entro domani indiremo un'altra tasca di sciopero chiarissimo l'assessore alla sicurezza Granelli una cosa che abbiamo letto sui giornali che mi ha stupito un po' ma che volevo capire meglio con voi tra le richieste che avete fatto nelle varie comunicazioni che avete diffuso anche il fatto di non essere d'accordo con il vigile di quartiere diciamo chiamiamo così vigile di prossimità cambia il nome mi chiedevo come mai a volte ci viene venduta come la panacea di ogni male e quindi ce l'avamo capire non è che non siamo d'accordo con il vigile di quartiere dobbiamo però contestualizzare il periodo storico in cui siamo e la situazione in cui siamo e come si evolvono sia le società sia le forze di polizia che vi devono operare adesso noi penso che alla causa abbiamo dato abbastanza colleghi già nel 2012 uno degli ultimi purtroppo con il nostro rammarico l'assassinio del nostro compianto Nicolò Savarino in bicicletta che è stato completamente è stato investito e trascinato allora assassinato esatto l'allora assessore alla sicurezza Granelli con dichiarazioni pubbliche dice mai più in bicicletta o a piedi perché è anacronistico dal punto di vista della versatilità dell'operatore è anacronistico dal punto di vista della sicurezza dell'operatore e quale ausilio può dare alla cittadinanza ricordiamoci che a un certo orario viene prima la penombra poi il buio non li vedi più in strada e quando noi fermiamo una persona uno di questi soggetti che non hanno nulla da perdere magari è solo appena lo fermi hanno un areto attorno nelle vicinanze che diventano dieci e diventiamo dieci contro due al buio magari in una situazione poco consona per il collega che può anche chiamare l'emergenza ma lo devo trovare dove è finito e comunque non è sicura è come avere un bersaglio in testa più o meno mettono due persone in strada con un bersaglio in destra che non hanno tutti i dispositivi a noi non sono stati consegnati i dispositivi neanche di sicurezza se per questo neanche le uniformi o le pattuglie perché poi ci viene anche il dubbio siccome abbiamo pattuglie vetuste siccome il parco macchino non è stato cambiato siccome molte pattuglie sono in officina mi viene il dubbio che probabilmente non avendo mezzi avendo gli operatori adesso non sufficienti ma avendone qualcuno li mandiamo a piedi poi non li vede nessuno al buio però loro hanno fatto la loro pubblicità è interessante questo perché spesso invece vedete il contrario che siete in troppi negli uffici e avremmo bisogno e le chiarisco anche questa allora possiamo dire tutto il contrario di tutto poi alla fine sono i dati che parlano con fine dicembre queste politiche occupazionali che hanno fatto che sono state fatte non sufficienti perché li dobbiamo sottrarre a coloro che vanno via per cessazione quindi al momento con queste politiche occupazionali rispetto al numero del 2018 siamo a più 140 circa operatori non stiamo parlando di grossi numeri con questi numeri qua dobbiamo distribuirli nei quattro turni noi siamo una forza di polizia abbiamo anche un decreto sicurezza del 2019 sono stati dati dei obiettivi concorriamo nella nell'attività contro i reati predatori l'amministrazione ha voluto i ragazzi si sono fermati sono formati sono professionalmente pronti e qualificati e stanno c'è una parte degli agenti degli ufficiali polizia locale che sono destinati a queste specializzazioni i reati predatori i famosi numeri che a fine anno o inizio anno sciorinano battendo le mani ai colleghi salvo poi tirar fuori queste dichiarazioni poco dignitose rispettose del lavoro che viene fatto quindi se una parte fa un determinato tipo di attività l'altra parte è sul territorio in divisa ma è poco più della metà diviso in quattro turni tutta l'attività che si va fuori e poi va ultimata e definita e questo viene fatto all'interno e non ci sono questi grossi numeri all'interno c'è tutta un'attività all'interno da fare senza contare che chi è in ufficio peraltro risponde alle deleghe delle procure risponde alle richieste degli enti risponde alle richieste dei cittadini e cerca di terminare le attività che sono state svolte all'esterno qualcuno lo dovrà fare consideriamo che nell'ultimo periodo anche questi colleghi che hanno anche una certa età e qui viene fuori la questione del contratto che ci regola perché è un contratto solidale che con questi numeri negli anni hanno permesso fino a 10-15 anni fa hanno permesso che sul territorio ci fossero 20-22 pattuglie la notte non erano male ma la condizione sine qua non che questo contratto funzionasse è che ci fosse costantemente e continuamente un ricambio generazionale tanti ne escono tanti ne entrano se siamo arrivati da 3002 dei tempi di Albertini del 2002 dopo una grossa lotta di cui lui è infatti questa è l'altra cosa voglio dire passano le giunte ma le lotte non passano mai allora l'allora sindaco Albertini alla fine si riuscì ne potrà parlare meglio lui che la memoria storica si riuscì a far comprendere diede corso a una campagna di assunzione arriviamo a 3002 così come è questo contratto che organizza l'attività portava molte pattuglie all'esterno sia di serale che di notturna la condizione era che quando i colleghi cessano l'attività e vanno sostituiti il turnover deve essere al 100% costante e continuo invece noi abbiamo avuto 10-15 anni che prima perché furono bloccate le assunzioni poi furono diciamo come norma nazionale poi finalmente fu sbloccata e loro non hanno dato corso è dal 2014 che noi rappresentiamo questo decadimento chiaro Vincini ha citato Albertini io l'anno scorso l'ho intervistato Albertini e ha portato anche lui subito questo racconto dico una bella storia lo racconta invece iniziata nei peggiori dei modi e finita invece nelle migliori delle maniere noi rimpiaggiamo lo dico fuori dei denti io ho fatto 18 mesi di divertenza è successo di tutto denunce è stata una bella lotta sindacale ma faccia a faccia senza tanti giri di parole poi alla fine arrivamo all'accordo del 2002 che poi è figlio del 97-98 perché la vera battaglia fu fatta tra il 97-98 18 mesi di divertenza abbiamo abbiamo siglato un accordo che mediava perché anche allora c'era il problema dei vigili gli agenti in ufficio la mancanza di pattuglie il discorso della sicurezza non è cambiato nulla e non male dal 97 ad oggi il problema vero è che la situazione è sicuramente peggiorata quell'accordo però è ancora valido per noi perché dava addirittura più pattuglie di quelle che prevede l'odiena amministrazione il problema è che se non dai corso al turnover tu alla fine come noi avevamo detto dopo ci hanno detto voi siete le cassandre no noi siamo riusciamo a malapena fare un po' di conto e alla fine sapevamo che siamo finiti così ma dopo la battaglia sindacale il sindaco Albertini investì nella polizia locale cioè lui ci ha messo i soldi per essere proprio i fondi chiamiamo come vogliamo alla fine ha messo mano al portafoglio e ha detto io voglio una polizia locale degna della città di Milano ha fatto le assunzioni ha comprato i mezzi ha comprato le divise noi oggi spiegate questa cosa di divise io sono un attimo sconvolto in che senso non ci sono le divise ma noi noi abbiamo colleghi che gli hanno dato il minimo sindacale cioè un pantalone una giaca un giubbotto cioè uno come uno se vado mando mio figlio a giocare all'alcione gliene danno almeno tre di maglie ma noi ma noi abbiamo avuto sull'emergenza Seveso colleghi che hanno dovuto mettere i sacchi dell'immondizia ai piedi perché non avevano gli stivali ma di cosa stiamo parlando abbiamo siamo partiti nel 2018 a fare l'avvertenza quindi con Albertini 18 mesi questo è un mese sono 6 anni che noi abbiamo abbiamo ingaggiato con questa amministrazione è proprio vero che siamo partiti con 5 punti come piattaforma sono passati questi anni e sono diventati 18 cioè invece di andare a migliorare andare ad affrontare i problemi ma anche quello della pattuglia sull'organizzazione del lavoro un corpo di polizia gerarchicamente costituito che non ha i sotto ufficiali noi su questo vorremmo dire la nostra forniamo i sotto ufficiali e il primo personale o su base volontaria che farà il capo pattuglia dei servizi notturni e serati questi 5 punti che adesso sono 18 tutti 18 non abbiamo tempo di leggerli ma i punti salienti che secondo voi bisogna portare avanti bisogna raccontare che voi portate avanti ce n'è uno in particolare io non voglio tediare con la mancanza di mezzi la logistica e tutta questa cosa qua le regole interne c'è un altro aspetto che poi ha portato alla rottura fatta e voluta dai lavoratori attenzione noi arriviamo come un mandato assembleare due mandati due mandati perché sono state fatte due assemblee per essere chiari della situazione i colleghi sono esasperati anche perché oggi ci troviamo nelle condizioni che se un collega un agente di polizia locale ingaggia per qualsiasi motivo arriva allo scontro fisico e va in infortunio il problema è che lui viene pagato come se fosse in malattia quindi noi avendo un salario legato alla presenza alla fine c'è una decurtazione salariale questo secondo noi è inaccettabile vuol dire praticamente dare l'input ai colleghi fate una cosa girate la testa dall'altra parte perché se rimarrete contusi nello scontro vi paghiamo come se fossi in malattia come se fossi caduto nelle scariche di casa tua questo è inaccettabile la tutela legale noi abbiamo avuto colleghi che sono stati abbandonati al loro destino perché hanno cercato poi magari hanno leggermente esagerato non è stato tutto fatto e sto parlando del caso della trans del mese di maggio però hanno cercato di fare quello che potevano con gli strumenti a loro disposizione abbandonati da tutti ecco forse proprio su questo tema mi viene a dire che magari certe situazioni non le vedremmo non le vivremmo se magari ci si sente un po' meno abbandonati e un po' meno frustrati anche perché insomma dicevo giustamente se poi non abbiamo gli strumenti se poi ci sentiamo abbandonati magari si rischia a volte esseri umani come dire quindi ci può stare che poi magari appunto è complicato pensare che non puoi fare il tuo lavoro perché sei abbandonato da chi dovrebbe aiutarti a farlo al migliore dei modi poi non vuol dire difendere tutti a spada tratta infatti noi difendiamo i colleghi nel momento in cui il lavoro certo che se uno si pide i soldi se uno posso dirle Vinci ma ci sta anche che uno sbagli ci sta anche che qualcuno sbagli però sia possibilità tova difendersi poi quando sei in strada e ingaggi un controscontro con questi soggetti ripeto non hanno nulla da perdere sono sul territorio sopravvivente non voglio dire da dove arrivano perché poi entreremo in un aveo politico e polemico di altro tipo esatto questi non hanno nulla da perdere quando tu li fermi perché un cittadino ti segnalano che ha fatto qualcosa in quel momento non ci sono telecamere non ci sono telefonini di nessuno tutto quello che succede prima non è non è cristallizzato da nessun tipo di strumento digitale tutto quello che succede dopo con tutto un percorso per cercare di fermarlo perché poi se c'è da fermarlo o arrivare addirittura all'arresto ed è tuo dovere se non sono omissioni tutto quello che succede con questo che tenta di sottrarsi quello è facile che il momento clu che magari o il collega si è visto costretto a fare a agire con una forza maggiore non commisurata come dicono loro o il collega si sta difendendo ma manca la parte precedente quello è sempre lo vediamo sempre su un telefonino di un penpezzato tutto il resto non c'è il collega a quel punto ha finito di fare la sua attività viene messo al risalto della cronaca nel modo più negativo possibile abbiamo un'amministrazione che gli sputa contro consentitemi di poterlo utilizzare perché subito si sottrae al confronto con i cittadini quantomeno dire lasciamo che l'autorità giudiziaria faccia il soccorso a me basterebbe quello però ci metta anche voglio la tutela legale noi siamo qua stiamo facendo stiamo portando avanti anche una raccolta fondi perché noi dobbiamo difendere i nostri colleghi che non sono solo i tre che sono stati riprese ce ne sono diverse in situazioni analoghe e dobbiamo fare le perizie dobbiamo pagare gli avvocati abbandonare perché c'è conflitto di interesse quindi e addirittura vanno avanti con i procedimenti disciplinari cioè oltre questo c'è anche il procedimento disciplinare i colleghi dei famosi fatti di maggio sono stati colpiti nella prima volta dal procedimento disciplinare non è finito il primo che già gli hanno notificato un altro procedimento disciplinare allora se si interviene a prescindere che dopo ci sia sono momenti particolari parlare dietro una scrivania è tutto facile poi quando si è lì non sarà andato tutto benissimo nessuno dice questo però abbandonarli metterli in ufficio togliere di parte del salario poi abbiamo avuto il collega che mi ha spaccato la testa ovvio e palese che tre anni e otto mesi tentato omicidio mi ha spaccato la teca granica e ci sono i filmati che parlano piccolo problema a parte invertite non è mai successo perché voglio dire un agente di polizia locale che piga io non l'ho mai visto e non lo voglio proprio vedere però c'è un piccolo problema la controparte normalmente nulla nulla tenente cosa fa denuncia la controparte dell'agente di polizia è solvibile la controparte secondo la NASA paga ma deve fare il stragato di giudizio deve mettere mano al portafoglio per pagarsi gli avvocati e gli avvocati non lo fanno a gratis per noi noi paghiamo fino all'ultimo centenario fatti invertite il collega denuncia gratuito patrocino per la controparte perché nulla tenente dobbiamo pagare gli avvocati se viene condannato come sono stati condannati non avendo nulla non becchi un centesimo questo è il discorso che dobbiamo portare qua servono regole certe da parte dello Stato non dobbiamo abbandonare le divise al loro destino questo vale per tutti prima di chiudere sembra che ci sia quasi un disegno di delegittimazione a questo punto voi un po' denunciate questo sempre delegittimati un po' del vostro ruolo importante noi veniamo usati come capro espiatorio in generale politica fallimentare sulla sicurezza che ripeto andiamo su un altro piano politico polemico che per noi non è di destra né di sinistra esatto la sicurezza è di tutti non c'ha un colore è un diritto dei cittadini esatto però il problema è che quando si arriva a questo punto dove i cittadini denunciano una sensazione una percezione una realtà di insicurezza perché non fermiamoci solo alla percezione e l'unico modo che hanno per rispondere vabbè loro non ci sono non è che dicono che ne abbiamo pochi loro non ci sono adesso li facciamo uscire dagli uffici adesso li facciamo andare a piedi come se la colpa fosse nostra adesso questa è una questione di dignità e di rispetto di lavoratori che ogni giorno vanno in strada e lasciano le loro famiglie che non hanno sabati domeniche che non hanno i festivi comandati cioè che devono lavorare e anche in queste giornate particolari lasciano le loro famiglie almeno un po' di rispetto verso questi colleghi quello che mi preme dire oggi è che i colleghi sono uniti che c'è le organizzazioni sindacali e sono uniti nella difesa degli operatori tutte che è stato organizzato questo blocco degli straordinari perché essendoci politiche occupazionali insufficienti questa città è stata portata avanti con i carichi di lavoro sui colleghi che lavorano in doppio turno quindi a questo punto i colleghi non fanno più gli straordinari che questa settimana già sta funzionando e i colleghi non si stanno presentando proprio per dare un segnale straordinario ovviamente domani ci hanno precettato siamo allibiti che abbiano precettato anche lo straordinario poi vedremo questa situazione non ci fermiamo qui ci hanno precettato o meglio hanno differito lo sciopero del 7 adesso segnaleremo qual è la prossima data non ci segnaliamo non ci fermiamo qui fin quando non tolgono quella informativa dal tavolo ci sediamo le proposte ce le abbiamo tutte le organizzazioni sindacali per addivinire a un congru numero di serale di notturno dei colleghi che per noi è necessario anche per la tutela dei colleghi stessi che sono pochi e soli la sera e di notte sul territorio per cui se siamo di più benvenga proprio per tutelare loro e aiutare loro poi a tutelare la cittadinanza detto questo noi le proposte ce le abbiamo è chiaro che non si va come dice sempre lui e lo ripeto non si fanno le nozze con i fichi secchi tutto va fatto con quello che ci vogliono le risorse in termini di fondi economici le risorse in termini anche di nuovi operatori da assumere io ringrazio ringrazio tantissimo Daniele Vincini e grazie Ingrao spero di essere di aver fatto un po' di chiarezza cioè non io loro spero che in questo servizio siamo riusciti a fare un po' di chiarezza perché davvero se ne parla sempre tanto e a sproposito su questo tema esatto il discorso che abbiamo fatto oggi qua nello studio di Milano News sostanzialmente è alla base di poi tutto quello che diciamo con i vari politici e leggiamo la sicurezza percepita cioè questi problemi organizzativi che avete denunciato e non solo organizzativi è chiaro che sono alla base poi di un buon funzionamento non si può fare il processo inverso i titoli dovrebbero essere su questo non su ebriatore che vi ha rispato quelle robe c'è un problema di comunicazione come denunciamo sempre sulla questione della sicurezza che porta a spostare l'attenzione verso verso l'influenza di turno che fa la sua denuncia sul social invece che verso magari i sindacati di polizia locale che dicono guardate che però noi il tema lo potremmo mandi da tempo e che magari se parlassimo insieme si potrebbe anche non vi dico risolvere tutto quanto ma buona parte del problema si potrebbe risolvere no? Certamente il problema vero è che se tu ti presenti a un tavolo di trattativa e hai la pistola puntata alla tempia con già una scadenza 13 febbraio comunque vada io disdico quel contratto e ne applico un altro perché se questo è un modo democratico per un confronto sindacale io ne prendo atto però io a quel tavolo non mi siedo con queste condizioni io rispetto innanzitutto perché è un corpo di polizia sono gli isle di Milano e vanno rispettati chiarissimo va bene vi ringrazio davvero tanto per averci chiarito meglio la situazione e aver fatto capire un po' di più come mai siamo arrivati a questo punto in bocca al lupo per la vostra battaglia allora grazie e allora noi continuiamo andiamo invece con i Beatles con Now and Then e poi torniamo qui subito dopo una piccola pausa di nuovo qui a Good Morning Milano Crystal Radio 96.2 FM da Plus sito ApriOS e tutto quanto Vero e basta Baby featuring J Balvin allora Maseri complimenti per gli ospiti che mi hai portato questa mattina so che li hai voluti fortemente tu è stato molto molto interessante a me io sono come sai sono molto sensibile al tema della sicurezza e soprattutto sulla comunicazione sulla sicurezza perdono la ripetizione perché noi appunto parliamo spesso di cosa succede del Briatore cosa succederà all'Enoar Casalegno eccetera 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 però le condizioni fuori sono queste e se noi parliamo di città insicura perché appunto vediamo un video sulla metro quello che è quella non è la percezione cioè quella sì quella è la percezione poi sul territorio però non ci siamo noi tutto per la storia sul territorio non ci siamo noi e quindi è giusto dar voce noi sentiamo sempre sul tema della sicurezza politici consiglieri commissariamento di in questo caso invece abbiamo avuto voce di chi è sul territorio e ha sottolineato problemi organizzativi incredibili che chiaramente non rendono appetibile ne stavamo parlando anche adesso fuori dallo studio il mestiere del poliziotto del vigile di qualsiasi forza dell'ordine ma anche i vigili del fuoco so che hanno denunciato la stessa cosa i medici di base c'è proprio una delegittimazione di questi lavori di utilità sociale di utilità pubblica che ormai è un processo che dura da un po' è un processo che dura da un po' di cui io credo che noi giornalisti siamo parte colpevole in maniera fortissima perché davvero quando andiamo a raccontare certe cose dovremmo e noi siamo pagati per quello anche per non scrivere con la pancia ma per scrivere con la testa invece troppo spesso magari scriviamo con la pancia commentiamo con la pancia ci facciamo forviare dal bel video fatto di nascosto e quindi pubblicato sui social che può servire ma non sempre è la risposta a quella domanda perché sappiamo bene quanto c'è sempre un prima e un dopo di quello che vediamo sui social e non sempre quello che si vede è davvero quello che vedi nonostante se uno dice no c'è il video quello che vedo non sempre quello che c'è lì è quello che realmente è successo perché poi bisogna contestualizzare in ogni situazione riabbassando un po' i toni se voi prendete i miei fuori onda ad esempio sarebbe un disastro quindi ad esempio però poi si contestualizzano e si capisce che insomma sono un simpatico guascone sì assolutamente assolutamente no molto interessante molto interessante vi ricordiamo ma voi non avete bisogno se ci avete già ascoltato che l'intervista sarà disponibile integralmente sul nostro sul profilo youtube di milano news ci saranno i vari rile contenuti sullo social sui vari social e quindi vi invitiamo a rivederlo e nel caso condividerlo perché appunto si tratta di un qualcosa che interessa a tutti e di cui troppo spesso ci riempiamo la bocca senza sapere effettivamente come stanno andando le cose ebbene sì e quindi se volete approfondire continuate a seguire milano news su tutti i nostri social ritroverete l'intervento di questa mattina del sindacato unitario dei lavoratori di polizia locale giusto sul pl ok andiamo avanti con la musica invece adesso è il momento di Madame con un pezzo che arriva da una serie Prime anzi non Netflix Prime una serie Bang Bang Baby uscita qualche anno fa e adesso invece questa è la colonna sonora appunto di Bang Bang Baby Madame con l'eccezione grazie a tutti